Al via la tre giorni in Consiglio regionale che si chiuderà venerdì prossimo con l'approvazione del bilancio di previsione 2022. Sarà questa l'occasione per un test sulla tenuta della maggioranza chiamata ad approvare l'ultimo bilancio della legislatura. Al centro delle attenzioni ormai da tempo sono i consiglieri dell'area di centro e più in generale i raggruppamenti che a tale area politica dicono di richiamarsi. Il caso di Noi di Centro, il neonato movimento fondato da Clemente Mastella che si propone come collante della diaspora democristiana. Il sindaco di Benevento ha chiamato a rapporto nelle scorse ore il coordinatore regionale del partito, il sindaco di Petrella di Fernina, Alessandro Amoroso per capire a che punto sia la tela che i suoi proconsoli locali stanno tessendo. La notizia che circola è riferita al toto nomine per la presidenza della regione e a sorpresa spunta tra i papabili successori a Toma, il nome dell'attuale inquilino di Palazzo Daimmo, Salvatore Micone. Il presidente del Consiglio regionale sarebbe il crocevia dove potrebbero incontrarsi varie forze in campo, i popolari per l'Italia dell'assessore Vincenzo Niro, l'Udc, il partito di Micone, noi di centro il partito di Mastella e per finire Italia Viva che vede come protagonista l'ex deputata di Liberi e Uguali Giuseppina Occhio Nero passato adesso tra le fila di Italia che avviva il movimento fondato da Matteo Renzi. Proprio Renzi si era incontrato la scorsa estate a Termoli con un altro dei protagonisti della politica molisana, l'europarlamentare Aldo Patriciello. Un mondo quello centrista corteggiato sia a destra che a sinistra, gli unici che al momento invece si pongono come critici verso quella sponda sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che al momento rimangono su una posizione attendista in vista delle elezioni del coordinatore regionale. In Lizza ci sono il parlamentare Antonio Federico e il capogruppo in regione Andrea Greco. La scelta tra i due sarà decisiva sul prossimo quadro delle alleanze.